Buon compleanno avviso pubblico, 24 anni di storia e di impegno di un'associazione che raccoglie comuni, province e regioni di tutta Italia. Lo dico da sindaco di Grugliasco, che è stato uno dei comuni che ha promosso questa associazione, che da oltre 20 anni è impegnata fattivamente, anche attraverso l'impegno dei singoli amministratori, io ho la fortuna e l'onore di essere in questo momento il presidente dell'associazione, ma lo dico soprattutto da consigliere metropolitano, visto che la provincia di Torino prima e la città metropolitana hanno aderito a questa associazione in questi anni, con degli obiettivi molto chiari, quello di accompagnare la crescita e la formazione della classe dirigente, di sostenere i funzionari dei nostri enti, ma soprattutto di considerare il contrasto alle mafie, alla corruzione e alla promozione delle legalità come un impegno concreto delle nostre istituzioni. Allora il compleanno lo festeggiamo venerdì con un evento importante diretto sui canali social della città di Grugliasco e dell'associazione, su tutti i canali social, con Roberto Saviano e con Don Luigi Ciotti, ma soprattutto lo festeggiamo con il Patto Giusta Italia, 18 punti che insieme a Libera, alle organizzazioni sindacali e a tante associazioni abbiamo costruito perché la ripartenza e rilancio dell'Italia ha bisogno di un impegno serio nel contrasto alle mafie e alla corruzione, solo così l'Italia sarà più giusta e libera. Grazie.